Mi allievo, ormai sarei al corrente del caos provocato dai ribelli. Ho ideato un piano, ma dobbiamo agire in fretta. Per ricevere i tuoi ordini, vieni da me al cimitero, il mio ultimo rifugio qui in città. Vai presto. Per ricevere i tuoi ordini, vieni da me al cimitero. Aveline, ti si è vista di rado nella palude ultimamente. Non hai più bisogno di me? Sono venuta appena ho visto il messaggio. Ho avuto un incubo. Ho sognato che diventavi... No, non importa. Che ne diresti di compiacere il tuo maestro, mostrando la tua lealtà? Agathe, non devo compiacerti. Io sono leale. Cosa ti serve? Non so cosa tu e Messie Blanca stiate cospirando, ma è chiaro che in questo momento, nel caos delle rivolte, un Loa dovrà finalmente lasciare la balise e negoziare la pace. È giunto il nostro momento. Con il rapitore morto e la città al sicuro, la mia missione sarà terminata. E troverò la pace. Il governatore può prendere una sola strada. Le altre sono bloccate o in fiamme. Devi preparare una trappola e colpire al momento giusto. Trovalo. E uccidilo. Lo farò. Lo farò. Lo farò. Il necessario per un'imboscata. Il necessario per un'imboscata. Il necessario per un'imboscata. Grazie. 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 Ti prego, no, risparmi a mia moglie. Tu hai forse risparmiato le vite degli schiavi e laboratori che hai strappato ai loro cari? Sì, stanno tutti benissimo. Gli ho solo portati in Messico. In Messico? E perché mai? Non lo so. Io collaboro e basta. Ti prego, mia moglie non sa nulla. Le ho detto che trasportavamo criminali trasferiti dalla prigione della città. Lei è innocente. Permettimi di rileviare. Tu, se non ne sai nulla. Sono un uomo di scienza. Le mie spedizioni al sud richiedono strumenti e mano d'opera. La regione è ricca di reperti che risalgono persino ai Maya. Inoltre, posso offrirti questa. Serve a decifrare documenti segreti, come questo. Ora mi volterò e andrò via. Se ci tieni a restare in vita, abbandona subito questo continente e non tornare mai più. Grazie. Grazie della tua pietà. Pietà? Questa non è pietà. Ora dovrai stare sempre in guardia dai tuoi stessi alleati. Ti nasconderai come un top. Vai, e goditi la tua falsa libertà. Grazie a tutti. Togliere l'ora, Magna. Ti giravamo, Magna. Non, non, ma hai raggiungi. È quello che spostrano? Hai avuto successo? Il governatore Ulloa mi ha dato un trofeo. Ah, di estremo valore. Questo rende la morte di Ulloa una vittoria per la confraternità degli assassini. Come vorrei essere stato presente. E dimmi le sue ultime parole. Grazie della tua pietà. Cosa? Quindi l'hai lasciato andare? È in questo modo che vuoi dimostrarmi la tua lealtà? Disobbedendo a un ordine diretto? Lasciando libero un nemico? Mio maestro, tu sei arso dalla sete di sangue. Abbiamo un solo obiettivo. Liberare gli schiavi. Sconfiggere i nemici. Fare giustizia. Abbiamo gli strumenti per portare a termine la missione. Devo seguire il nemico in Messico. Ora! Non farai una cosa del genere. Forse non lo capisci. Ma devo seguire il mio istinto. Cos'è un assassino senza la disciplina? sconterai la tua insubordinazione. Correrò a questo rischio. Idemi è un'accedo. È un'accedibile. Stronti ma lo spiegà. Si test James invece è un'accedibile e spirito. Sperse altive vai. Ora èиты tranquili. Noi stai la visione. Noi stai la visione da utilizzamento. Questo rischio. Non è chinosa. Non, 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 non.